non è il caldo e l'umilità come si suol dire fa un po caldo ma noi siamo già pronti siamo ben i caldi signora mia non è tanto il caldo quanto l'umilità dopo questi comici non è tanto il disagio quanto una psicoterapia mancata molto bene abbiamo il primo comedian in scena già pronto bello caldo per aprire questa puntata di TAC signore e signore un bel applauso a buonasera 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 ah che bello a me piace sempre venire a esibirmi quando vado in giro mi cerco di esibire il più possibile perché mi piace guardare la gente che che mi sta guardando e aspetta che io possa farli ridere ecco quella luce a me dà una carica pazzesca soprattutto perché so che per una sera non deludo solo i miei genitori e questa deve essere una cosa importantissima e io ho questo rapporto appunto con i miei genitori perché io sono solito andare in giro e parlare dei miei problemi io ho un pessimo rapporto col cibo lo so che a guardarmi si direbbe anche perché l'ho appena detto io quindi siamo abbastanza a posto e che io col cibo ho un rapporto una relazione un po tossica sembro come quelle coppie che vanno a convivere e vanno a fare la spesa per la prima volta che dove c'è lui che prende la roba dagli scaffali la mette nel carrello lei li rimette a posto e la mia rapporto è un po così e io praticamente nella notte vado davanti al frigorifero apro no 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 non posso vabbè dai qualcosa prendo no 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 non posso ma sì dai qualcosa no 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 sì praticamente questo apri e chiudi ha generato un codice morse tant'è che mi è atterrato un elicottero di globo in cortile e così perché io il mio momento in cui da quando ho fame a quando mangio io spengo il cervello e vado in una sola direzione io c'è anche io sono lì che mangio guardo la televisione può succedere la qualunque a me non me ne frega niente può esserci la guerra nucleare a me non me ne frega niente vado la melodica governo non me ne frega niente fanno la pubblicità della diarrea io non mi non me ne frega niente ho la velutata di zucca la mangio lo stesso va bene non mi importa basta ovviamente questo genera un po di problemi e lo so è io appunto perdo la bussola quindi ogni tanto cerco qualche distrazione e l'ho trovata nei siti porno è solo che anche lì e poi ho avuto un po di problemi iniziali perché ho notato che i siti porno sono strutturati nella stessa maniera dei siti di cucina e questa cosa mi ha un po messo in difficoltà perché sono divisi per categorie i video hanno titoli accattivanti e poi finiscono tutti con l'assaggio io ho un po di difficoltà a capire questa cosa e quindi ho dovuto ho dovuto darvi un rimedio quindi come tutti sono finito in quel turbine delle diete che prende un po tutti la gente nella mia situazione io ci ho provato e non non avevo molti soldi da impiegare in un professionista quindi ho deciso di fare le cose un po un po fatte in casa e ho chiesto consigli agli amici mi hanno detto prova a fare la dieta zona aspetta no io la dieta zona l'ho sempre fatta no cioè io solo a bologna mangio le lasagne solo a roma vado a mangiare la matriciana io solo quando vengo a torino mangio il kebab quindi che che è il motivo per cui tra l'altro sono in questa situazione perché io venendo da vercelli essendo stato due anni di lockdown a vercelli e lì si mangia solo la panissa che per chi non la conoscesse è riso e fagioli cioè abbiamo i fagioli che creano dei disturbi il riso che ti tappa là dietro praticamente siamo famosi per le mongolfiere noi dal mio paese d'estate gli anziani non organizzano il pullman per andare a sanremo noi veniamo esposti in cappadocia infatti io adesso oggi ho rischiato un po e vestirmi tutto colorato così perché però non è stagione quindi sono tranquillo poi ho provato ah sì mi hanno consigliato di sostituire dei pasti con le barrette però il duplo non funziona e ecco poi la peggiore che mi hanno proposto è stata la dieta chetogenica che per chi non la conoscesse è quella dove devi eliminare completamente i carboidrati ma come la mangio due tt di carbonara senza la pasta quindi già con la pasta io ho un po di problemi perché non so se anche a voi capita ma io non riesco a trovare il tempo di cottura nel pacchetto della pasta cioè tipo io per trovarla bisogna inclinare il pacchetto di 90 gradi mettersi su una gamba sola e probabilmente a mezzogiorno e 06 appare il tempo di cottura e allora io non posso aspettare tutto questo tempo tant'è che ho usato il metodo classico di buttare la pasta e poi assaggiarla man mano per vedere quando è cotta il problema è che finisce prima che sia cotta ho provato anche a mangiare la pasta e bere l'acqua bollente ma poi allora ho ripiegato sulla pasta ripiena che almeno lì tre minuti di cottura praticamente la pucci come nel cornetto e la puoi mangiare allora prendo il pacchetto guardo tempo di cottura trovato subito facile però leggo 250 grammi 2-3 porzioni 2-3 porzioni dove? cioè chi è che le fa le stime? la FAO? fammi capire cioè se fossimo a pranzo io io Gandhi e Fassino probabilmente ci possiamo stare dentro tenendo conto che uno non mangia e l'altro è morto quindi è un po' un problema quindi ho detto vabbè sai che c'è basta ascoltare tutti me ne faccio una io e basta quindi vado e ho creato una dieta che però attenzione non bisogna abusarne perché è un po' pericolosa che si chiama la dieta della cassiera ve la spiego in breve nel market sotto casa mia io vado e compro tutte le schifezze possibili pringles il duplo il pollo all'arrosto ripieno di nutella e solo che una volta che arrivo alla cassa con tutte queste cose c'è questa ragazza bellissima e io mi vergogno un sacco a farmi vedere con tutta sta roba la poso e prendo la prima cosa che mi capita a tiro che è il bagnoschiuma al cocco e ho risparmiato un po' di soldi ho perso le scibolle di sapone ogni tanto ma voglio dire sono anche andato in piazza san carlo il sabato pomeriggio i bambini erano contenti quindi non è tutta sta perdita voglio dire e solo che il problema appunto non comprando più le schifezze giri per casa e non hai più niente da mangiare e allora comincio a girare comincio io a vagare come un pazzo cosa faccio non faccio ho cominciato veramente a toccare il fondo quando ho cominciato tipo a farmi gli shot di delle olive saclà proprio lo buttate giù ho cominciato a pucciare i wustel nella marmellata ho iniziato a mangiarmi le unghie col ketchup tutte queste cose che ti fanno pensare che effettivamente anche quell'8% di cocco nel bagnoschiuma ha il suo perché e il problema è che appunto però questa situazione non è che a livello mentale aiuta più di tanto e quindi io mi trovo spesso la sera prima di andare al frigo vado davanti allo specchio e mi faccio un po' un esame di coscienza io mi guardo e dico mi era il caso di mangiare tutte queste cose cioè è questo il modo in cui tu ti prendi cura del tuo corpo ma poi se uno rutta e scorreggia nello stesso momento crea un sottovuoto meno male che in quel momento il mio riflesso allo specchio mi mette una mano sulla spalla e mi dice tranquillo che non glielo rinnovano il contratto alla cassiera grazie 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 a tutti